Altra sconfitta senza effetti collaterali per l'acqua e sapone Unigros che perde 3-2 con diversi assenti a Catania ancora una volta dopo aver condotto la danza, altra rimonta avversaria. Ultimo turno che decreta chi nera azzurri incontreranno nei quarti e cioè proprio gli etnei o su duro comunque l'insidia, ma siamo certi che il quintetto abruzzese saprà ritrovare presto lo spirito e la forza devastante dei tempi migliori. Intanto chiude la parentesina con tanti applausi un generoso Pescara Color Max che avrebbe meritato dopo un gran recupero e uno splendido sorpasso più del 3-3 finale contro un Eboli che col pari ci ha rimesso la quarta piazza, Eboli sotto tono apparso stanco dopo le prodezze di Coppa. Per l'equipe di Palucci l'augurio è che si tratti di un arrivederci, troppe cose storte e troppi rimpianti per una stagione va detto con obiettiva serenità, il limiti d'organico a parte, tutt'altro che fortunata. A presto dunque per i play-off inizi questo fine settimana dove saranno impegnate Acqua e Saponini Gross, Tombese-Ortona, Realde Montesilvano e al femminile il Montesilvano, Lorione Avezzano nei play-out. Un collettivo in bocca al lupo a tutte le squadre.